Ho trovato anche questo tunnel che non so dove porta. Bene, entriamo. Qui si va giù. Cilenti come basso. Trampò bisognerebbe camminare a carponi. E' anche bello lungo. E mi trovo sempre nel parco Spinaverde. E questi sono tutti i tunnel della linea Cadorna di questo parco. Ah, qua c'è una postazione per mitragliatrice. Caspita, bella. Postazione per mitragliatrice, sì. Come vi avevo fatto vedere anche nei video dedicati alla linea Cadorna di Mesenzana e Cassano-Valcuvia. Invece qua, no. Qua mi trovo nel comune di San Fermo, al confine con la Svizzera, nel parco Spinaverde. Qua c'è un piccolo deposito. che qua praticamente va avanti. Bello, interessante. Qua va avanti. Ecco, qua c'è un'altra... Tra l'altro è anche bello fresco qua dentro. Ah, qua c'è praticamente una saletta. C'è ancora una panchina. Sì. Una saletta... con una finestrella. Che dà sul bosco. Qua un'altra piccola... un'altra piccola rientranza. Sarà di deposito per le armi. Interessante. Qua c'è l'uscita. basso, basso, basso. Ah, ecco. E qua ci sono pure anche gli asimi. Giù lì, praticamente giù lì vicino, c'è una fattoria. E, come vi ho detto, quello che abbiamo appena fatto è una trincea e postazioni coperte per mitragliatrice. Ecco. Vediamo un po' la cartina. Voi siete qui. Io mi trovo lì. Ok, adesso vado avanti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.